Buonanotte, buonanotte, televidenti. Buonanotte, abbiamo una live emissora di CBA per molti tempi, per molti tempi, per oggi abbiamo un maniera molto interessante che è il spiel di rientrare la situazione di oggi. Signor Stanley Petrian, buonanotte. Buonanotte, grazie a tutti per la situazione. E non so se mette mi che tu non mi sia a clarar. Appunto non, preginta non bo ti, per la sua maniera a guarda. Si, per la sua maniera a guarda di nombrato come ministro presidente Corso, al e tardi, come è il suo sentimento? Buon, naturalmente in situazione normale un nombramento di, per la mia ministra presidente, è una cosa di celebra. Non sa che citazione a Corso, un citazione di controverso, non sto con un minuto, mi racconta un cosmo di celebrare una chapa, ma non sa bene per un periodo cortico e non sa bene per attenderi a alcuni assunti, problemi da CUTIN. Ma è importante, non mette un cittadano comune. Di nada, se chiede, non si capisce di Stato, con il governatore, adona un obiettivo, un formatore per trago un governo per sobra, come dovrò t'argana che sia necessario in una situazione che non sta bene. Si. Anto, non si può seguire. Non solamente per sobra un corista per sobra, non per sobra un indico della Bibbia, non per sobra che la Bibbia, secondo lei, non per sobra. Per sobra un governatore a puntare un modo per dire la Bibbia. Esattamente, il formatore, il governatore, attraverso il governatore, per dimmiare un Messiae. Anto, non mi ha detto che la comunità ha un'opinione, che ha un miedo, che non ti dimenticare il papo. Anto, non mi ha detto che non sappiamo attraggiamo la nostra maniera di comunicare con l'altro, non sappiamo attraggiamo la nostra norma di morale e faccione. Anto, non c'è trezza cosa nei BEC. Anto, non c'è trezza cosa nei BEC. Non c'è trezza cosa nei BEC. Per sobra un indico, se credo che non c'è trezza cosale, perché non c'è trezza cosa in cui si è un paese, non c'è trezza cosa. Anto, non c'è trezza cosa che sta bene, perché ci sono, non c'è trezza cosa n'è trezza cosa che ci viene e non c'è trezza. Non c'è trezza, non c'è trezza la parola. C'è trezza più molto bene da fare una, è una малень 놀�a che non c'è trezza per i bimini, non c'è trezza da ferta della conoscere la soluzione trovi un cittadano simpoli tutta quere un bambino bimba segun regla di norma e façun i costa dretti e segun leine nas comunità governador e cabecei stato a concluir que ti un maio via d'estate co abc tende non sker patin un gabinete interino il governador a studi così ma come si mangoyenne critica e leggo un momento se la scucia ma se tanto experto juridico e leggo a un concluzion che ti sa che ti costi maggiore maggiore a faccia non stigo viva co regla è sobra è la bimbo autorità che non stigo non poto sì però ti un hop e critica mi ne ha mencione acaba un'è critica è il tempo di hop e cortico ma si cortico che dia il gabinete interino ti queda no ti queda no ti queda ti è spesso che forma un gobierno nuovo dopo le elezioni e leggo mi mi si sa qui è chiaro per tenere a comprender elezioni sta seguendo un dia il governo non sta di zora per tu cosa vai net per elezioni prossigui senza nessun problema si però il obietà non saia 250 ericutati anche però ti è con la visa ora ti è elezioni e il gabinete mestra vai dimissionario la verità o no o no vai un gabinete interino no dimissionario di casa che non mi c'era molto tecnico sobra in a missa però non si c'era con un gobierno no si un gobierno no non stava ori non si dimentichonari fai ora che hai gilero non sa con elezione non stiamo a casa non si c'era a mi che si c'era 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 la quita e ti c'era riunione di parlamato man a studia e costa b man a si mi 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 ovviamente è jurista mi nuove vissero mi certo studi di delegate tal entro altro e quello ragione capisce che mi seguì e mi겠어 jerò per per ma tra completamente d'accordo con l'analisi del governatore che vengono davanti, ma sono metà a mettere nel nostro Stato, ma non è un po' di quanto riguarda il assunto. Poi, ma non ho tre motivi, non è come, mi ha fatto queste cose qui, e non ho un proveggio personale, non è cosa qui, non mi mi stesse, ma mi chiede a fare un paese di organizzare l'ordine di dengere e la cultura di vivere, secondo il reato non si è assumito. Mi te comprende, ora hai da vista, è una situazione illegale, ma non è da vista e non è da vista. Ti sento a vista, è da vista? Ti, hai da vista. Oh, sì, ti hai da vista, ti hai visto è l'ilegale, naturalmente, non è che proteggeri la posizione, non è da, mi te comprende, ci sei. E dei nostri paesi sono liberi di vista, non è, e questo non è, non è un problema, non è da, non è da, non è ci essere, ma non è da, però, non ho un problema, ci hai da, non è un problema, è un'unica cosa che mi mi te sache, mi te ti house, è da, mi te dico, con il comissario dell'Ornett, che sta, alto comissario di polisio. mi ho messo con il signor procuratore generale mi ho messo con il reso di VKCI mi ho messo con il reso di SKS e ho detto che ho detto che mi sono a mia disposizione per seguire l'ordine con la mia quindi mi chiede e ho messo una garantia per la comunità che noi per l'ordine pubblica che si è tranquilla e si è tranquilla naturalmente c'è un gruppo di gente e non mi sapevo che c'è un gruppo relativamente piccolo che si è curato per fare un bambuco per noi attendere le mani dure cose però non c'è una maniera di attender le cose quindi non c'è un problema di trampa di questo un consiglio c'è un line che c'è che mi hanno il nostro lavoro senza forza brutta e la linea M non c'è per guardare e il momento che vorrà passare non c'è un atto comanduro quando si non è violato si mi ti comprende però mi ti non è una pregunta relacionata con il tópico per sobra che si non c'è un atto non c'è un atto che non c'è un atto se non c'è un atto si non c'è un atto 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 che si non c'è un atto non c'è un atto non c'è un atto e non c'è un atto mi ti comprende non c'è un atto